Il mio personaggio si chiama Ambizioso, è uno dei tre figli della duchessa, che sta sempre in coppia con Supervacuo, l'altro fratello. Diciamo che è l'elemento più stupido dei due, quello cioè che vorrebbe ambire al trono ma che non ne azzecca una. Il fuoco del lavoro penso sia lavorare su una presenza costante nello stare in scena. E lui ci ha detto subito, io dirigo nel senso che metto nella direzione più opportuna qualcosa che però deve essere già in movimento per conto suo. La cosa bellissima secondo me del lavoro con lui ma anche dei suoi libri è come riesca a parlarti di teatro ma nello stesso tempo a fare subito uno switch, un piano più alto, umano e di vita. Devi venire a vedere la tragedia del Vendicatore perché sarà uno spettacolo ironico e divertente e perché se saremo in grado di far bene il nostro lavoro riuscirà ad arrivare al cuore dei rapporti umani.